Buon pomeriggio, scusatemi, video veloce, per avvisare tutti quelli che si trovavano con la domanda RDC sospesa per la mancata presentazione dell'RDC.com, che stanno sbloccando diverse domande. Andate a controllare nel vostro fascicolo previdenziale, andate a controllare attraverso l'app dell'Inps se la vostra domanda è stata sbloccata, perché stanno facendo queste elaborazioni ora. Quindi verificate subito e se la cosa è stata sbloccata, avvisatemi in modo che si sappia, mi date una buona notizia. Anche perché al 16 ci doveva essere un video, l'ho cambiato perché ho saputo alcune cose dette da uno che si considera giornalista e direttore di quotidiano che mi hanno fatto ribollire il sangue e per cui ho cambiato completamente l'impostazione del video. Buon ragazzi, fatemi sapere se ci sono novità in questo senso, spero di sì per voi. Ci vediamo più tardi, ciao!